Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con il nostro Monza Oggi andremo ad affrontare il Bayer Monaco Che sarà un macello, un macello Io sinceramente un po' di paura ce l'ho C'è un certo Lewandowski, Sané, Tolisso, Awar, Pavard, Sul, Alaba, Mamma mia, Neuer Vabbè, non guardiamoci che forse è meglio E direi che la squadra sta messa abbastanza bene, è complesso Sì, è complesso, la squadra c'è Intanto mettiamo quelli in forma Intanto, in panchina E niente, andiamo a giocarci questa partita molto, ma molto importante Voglio iniziare con un bello slancio questo girone di Champions League Champions League che non è il nostro obiettivo quest'anno, chiaramente Però, più andiamo avanti Più il club cresce di prestigio Quindi, insomma, vincere non è proprio facile Però è abbastanza importante Chong, Alan Bravo Alan Che oggi si, sarà super gasato Bravissimo Alan Wirz che sbaglia tutto, tutto, il controllo Bravissimo, fallo a palla lontana Mi sei piaciuto Mi sei piaciuto Bravo, Schick Oriol Cassata Bravissimo, Cassata Chong Aushick Wirz Olan Wirz No No Porca miseria, porca Non ci credo Bellissimo, 1-2 Eh, purtroppo qua Alan si è Si è sbagliato Ha sbagliato il controllo di palla E si è troppo allungata Comunque, se non sbaglio Il Monza non è mai stato in Champions League Se non sbaglio, eh In tutta la sua vita calcistica Poi magari dico una cavolata Però Io non me lo ricordo Sinceramente non me lo ricordo in Champions League Non l'ho mai visto Però Magari Tanti anni fa Potrebbe anche essere Chong Bravissimo Cassata Alan Wirz Au Niente Bravo Ross Cassata Chong Bravissimo Per Mimmo Mimmo Per Alan Ci prova Ha un chic È lì Ma niente da fare Z Ha un chic Cassata Eh, vabbè Niente Comunque Bayern Che sinceramente Sta soffrendo in Monza Non me lo sarei mai aspettato Sono abbastanza Sorpreso Alan da fuori Neuer para Una sassata Una sassata Veramente potente Questo tiro Molto Molto Potente Ha un chic Bravissimo Lo prende in faccia pieno Altra rimessa Sì Ancora ha un chic Cassata C'è il barco Ancora Neuer Eh, Neuer È forte È forte Comunque se oggi vinciamo contro sto Bayern Io non so Io inizio un po' a sognare Poi magari Uh, uh, uh Ne ho No, Neuer ancora Strepitoso Neuer Strepitoso Neuer Ragazzi Strepitoso Io non so più cosa fare A uscic Per cassata Mimmo Verze Al volo Caca Non lì Non lì Non c'entrava niente Lì Vabbè Mimmo Cassata Bravo Ragioniamo Wirth Per Z Comunque Volevo dire Finché queste parate le fa Neuer Io sono contento Perché è realistica la cosa Cioè È un buon portiere È un ottimo portiere Uno dei migliori È alle volte che il gioco è realistico No? Quindi Stavolta sono anche abbastanza Contento Perché è abbastanza realistico Vedo male Per una volta A uscic Cassata Ancora lui Eh niente Troppo Troppo lento Il giropala del Monza Troppo lento D'altronde Non è facile oggi Già un pareggio Sarebbe un risultato incredibile Bravi ragazzi Bravi ragazzi A uscic Bravo Wirth Alan Per Chong 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 è tua Chong Devi solo crossare Mamma mia Mamma mia Stiamo veramente Giocando bene A uscic Per Alan Di testa Non ci arriva Riparte il Bayer Con Lewandowski Lewandowski C'è Lohsk Sta impazzendo Sta correndo a tutta faccia Pur di arrivare su quella palla Spinge Spinge Cedendo il pallone Nudo Scodella in avanti Bravo Erlich Per Oriol A uscic Quirt Per A uscic Bravi Bravi Mamma mia Mamma mia Risultanza Molto composta Molto composta Di A uscic Che ci porta in vantaggio Contro il Bayer Monaco Ragazzi Il Bayer Monaco Bella questa azione comunque Molto bella Molto bella Dai Dai Che se si fa così Si può sognare Io non vorrei dire Ma si può sognare Si può sognare Secondo me Si può Bisogna solo aver pazienza Bravo Schick Quirt Niente Come loro Come loro Com'è possibile Com'è possibile Bravo Schick Che oggi sta giocando Una partita Fantastica Fantastica Sopra Ogni Sua possibilità Sente La pressione Sente La La forza Di questa competizione Il nostro A uscic Alaba Caccio d'angolo Mamma mia Rosso Devandowski Bravissimi A uscic Per Alan No Ah Chiudilo 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 Bravo il portiere Bravo Schubert Bravissimo Bravissimo Mamma mia Mamma mia Che ansia Sta partita Che ansia Alaba Ancora Rosso Devandowski Rosso Lo sta Sovrastando Devandowski Fa quasi ridere Dirlo Ma è vero È vero Così Bravo Bravo Erlich E vabbè Dai Calma Calma Mimmo Chong Cassata Alan Intervento un po' Un po' Così Sinceramente Era un po' A martello Però Vabbè Va bene Va bene Bravo Bravo Wirtz Bravissimo Wirtz Comunque Sta prendendo Confidenza Intesa Con la squadra Qui Pian piano Diventa un gran bel giocatore Questo Wirtz Un gran bel acquisto Stiamo attenti Potrebbe Sorprenderci Eh No 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 Ma quale fallo Ma quale fallo Su Come tuffato No Ha simulato Non ci credo Ha simulato Sanè No Fantastica Questa cosa Sanè Che simula Sanè Che simula Ma come Non l'ho mai vista Non l'ho mai vista Una roba del genere Non l'ho mai vista Vabbè Ok Ma anche perché lì Mi sa che era rigore Non so Mi sa che era Mi sa che era dentro l'aria Se non sbaglio È quello che Il problema Sanè Bravo Z Nostra Bravo Z Bravo Bravo Bravissimo Z Bravo Cassata Cassata Per Chong Chong Ancora lui Ancora Chong Ancora Chong Lo vede Lo vede Lo vede Lo vede Lo vede Di poco l'ha visto però Non siamo riusciti a buttarla dentro questa palla Non siamo riusciti Non siamo riusciti Non siamo riusciti Bravissimo Bravi Cassata Mimmo Chong Eh no no Madonna che coppo di testa Dovevo metterla Filtrante qui Filtrante Eh ho sbagliato Ho sbagliato Ho avuto fretta Ho avuto fretta Bravo Ross Mimmo Cosa Ma di chi Ma cosa Ma 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 Io dico ma Comunque Bravissimo Ross O comunque Ross Io non so cosa stia Succedendo Ma cresce sempre di più Eh Io Non vorrei di ma Sta diventando Fondamentale Per questa squadra Ross Lì al centro Da difesa Bravo Bravissimo Oriol Si riparte Oh l'hai visto Olan No vabbè Niente 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 Mamma mia Lewandowski Mamma mia Lewandowski Ragazzi Tiro Potentissimo Comunque Stiamo un po' Soffrendo Allora Chi è stanco Vabbè che Abbiamo poche alternative Cassata No Possiamo mettere Magari Nessuno Bene Sulemana Per Chong Pina Pina Monti Per Olan E Donk No niente Cigarini No sta giocando bene Medina Per dare un po' Di spinta In più Dai Ci può stare Come cambio Ci può stare Eh qua in Champions Abbiamo poca panchina disponibile Sinceramente parlando Veramente poca Comunque dobbiamo assolutamente Diminuire i giocatori in rosa Sono troppi Ne scopazzo anche io Perché sono veramente troppi Ho trovato un modo per eliminare tutti questi giocatori Venderli Fare una bella selezione Dei migliori E vendere i peggiori Dispiace ma Pina Monti No Bravissimo Erlich Le vendoschi Lo sta sovrastando Io non so Le vendoschi oggi non ha visto palla Cioè a parte quel tiro da fuori aria Ma L'ha fatto perché Di cattiveria Se l'ha stancato Non ha fatto nient'altro Le vendoschi oggi Oriol Aushik Aushik Wirz Per Pina Monti di testa Aushik Cassata Bravo Cassata Con Kadma Medina Bravissimo dai Medina Per Z Nostra 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 Ancora 1 a 0 Stiamo tenendo Aushik Da fuori Neuer Che intervento Di Neuer Ammazza Che intervento Porca misera Neuer Se RGM Lo devo comprare Aushik Pina Monti Non ci arriva Però qualcuno che ci vada Se no qua La vedo dura Bravissimo Cassata Sulemana Pina Monti Per Wirz No vabbè Wirz da solo Contro Afonso Davis Lo supera No vabbè però il tiro è Qualcosa di inguardabile Cioè veramente Ha preso quasi la banderina Del calcio d'angolo Io non vorrei dire Wirz bellissimo tutto Ma il tiro Cioè Miglioriamolo Perché se no qua Mi tocca a piangere tutto l'anno Cioè Non si può Non si può Dai Non si può Non si può Bravo Oriol Bravissimo Oriol Sì però Un pochino più lunga Possiamo Porca miseria Mamma mia Lewandowski Stavolta Mi ha rischiato Bastava che ci girava Un pochino meglio Questo era un gol netto No no Ma porca Ma porca Ho fatto un errore Ho fatto un errore Eh basta un errore Qui col Bayer Basta un errore Questo errore Questo errore Ho fatto un errore Ragazzi Scusate Scusate Che pareggio non va male Eh però tre punti erano molto meglio Secondo me Si poteva fare Era molto meglio 3 punti Come partenza Vabbè Vabbè raga Bisogna essere oggettivi Siamo oggettivi Lo sapevamo che non era facile Già un pareggio è un buon risultato Anche se comunque è colpa mia Perché se no Potevamo anche vincerla oggi La partita Primo tempo abbiamo dominato Secondo siamo un po' calati Come giusto che sia Loro hanno Giocato meglio il secondo tempo Bravo Ross Pinamonti Dai cassata Cassata Sulemana Sulemana Neuer Aosic Pinamonti Vabbè Pinamonti comunque mi sa che Che lo vendiamo Perché non si può Cioè Un attaccante Bastanza mediocre Purtroppo Non ci arriva mai Sulla palla Bravo Ross Ho preso più le caviglie Che la palla Però bravo L'importante è che L'abito non fischi Fallo Poi sono contento Mamma mia Devandoschi Mamma mia Che Che infarto Che mi fa venire Sto uomo Secondo tempo Penoso Potremmo essere sotto Potremmo essere sotto Bravo Bravo Pinamonti Cassata Cassata No 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 Cassata No Tutto meraviglioso Era Mi mancava solo Lo scatto Neuer comunque Un mostro Neuer è un mostro Ragazzi Au chic Eh niente Au Ultima azione È però falla Sulle mana Pinamonti Sulle mana È fresco Vai Minina Au Au Era piede Era piede Però Era piede Vabbè Dai Una Uno Equilibrata Però Più tiri noi Attenzione Io in campo Io in campo Au chic Però Più tiri noi Sembrerà strano Ma più tiri noi Comunque Girone di ferro Manchester Bayern Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sarà Sarà Difficile Molto difficile La prossima La prossima volta Giochiamo Contro il Parma Attenzione Attenzione Giopedo ha rifiutato Sirigu In prestito Ross rinnovo Bene 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 A me va benissimo Ed il rinnovo di Di Ross Va stra bene Stra bene Oh Dai Poi Cos'è che è successo Niente Altre squadre Giopedo ha rifiutato Gli davo Pinamonti Per Giopedo Era una buona Una buona cosa Ma Allora Allora Pinamonti Iguain Com'è Caputo Camero Allora Caro Pinamonti Intanto Neuer E' un Neuer Quanto va Quanto è No Ha 38 anni Il cavolo Minchia Che statistiche Neuer Che statistiche Ma Sinceramente Si vabbè 7 milioni Di ingaggio Raga 7 milioni Di ingaggio Ma di cosa vogliamo Parlare Attaccante Che può venire Per Pinamonti Perché Pinamonti Insomma 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 Allora Vediamo un attimo Almeno Un 80 Dai Pinamonti Aubameyang No Troppo vecchio Abraham Werner Charlison Ken Gabriel Jesus Magari ci venisse Aguero Greenwood No Martial No Kane Kane Sì Kanè Che cavolo Dico Kanè Vlaovic Eh Vlaovic Mi piace un botto Anche nella realtà Rolando Come fa Aver 40 anni A essere ancora lì Tutte le statistiche Vabbè Immobile Sì Vabbè Lukaku Vabbè Martinez Esposito Esposito Lo stavano puntando A tempo fa Magotaro Martinez Eh vabbè No Ragazzi Non si può Non si può Fa Ogni cosa Che posso fare Magari A momento E mettere Pinamonti In In lista In lista Perché Cioè Non mi piace Come giocatore Non mi piace Ragazzi Io comunque Direi che è tutto Per il momento Noi ci becchiamo Per il prossimo episodio Per affrontare il Parma Che sta primo in classifica Ma come è possibile Vabbè Sta primo in classifica Quindi ragazzi È tutto Ci becchiamo Alla prossima Ciao ragazzi